Il paesano che vive qua e si è scoperto che anche noi stiamo iniziando in piccolo qualcosa di simile a quello che si sta facendo approssato con il terzo busto. Noi abbiamo, in effetti, noi stiamo cercando di valorizzare i prodotti difficili dell'agricoltura e anche le nostre difficoltà di cucina. E' eccezionale perché si va dalle piccole cose e si può nascere anche a grandi cose. Noi dobbiamo valorizzare i prodotti, spesso non sono molto conosciuti, spesso in molti tempi sono alcune persone per conoscere di noi. Noi abbiamo visto che ci sono comuni vicini che hanno delle difficoltà e non ci conosciamo. Noi abbiamo un progetto, ci siamo venuti come Gallelli, c'è una serie di comuni, un'ambici comuni della provincia di Trapani, che lo scopo principale non è tanto quello di fare i bisni, ma quello di conoscere da tutti i te e fare dei progetti anche minimi, con minimo costo, per esempio per mettere in rete le peculiarità di questi comuni e anche per scappiarci. E con noi, grazie a tutti i nostri contatti, per esempio, abbiamo conosciuto il signor Sanzani di Sanzani di Sanzani di Sanzani di Sanzani di Sanzani. A Mumina abbiamo fatto una vedanza civica, sapevo e non conoscevamo. Anche qua, scoperto che alcuni di Torino non conoscono l'esigenza della funzione del futuro, in cui capita molto di farci vedere uno spedetto stasera, e quindi i spinti e scambi sono fondamentali. Vedo che a livello mondiale c'è questo interesse di valorizzazione dei beni immateriali. C'è l'ONU che già 10 anni fa ha iniziato una catalogazione, questo l'UNESCO, e quindi qualcosa con l'UNESCO, i materiali che sono sia possesso i beni artigianali, ma possesso anche i beni dovuti alla cucina, ai piatti tradizionali. Finisco con una battuta, un buon piatto, che può essere la cassata siciliana o un piatto vostro, e più malano la cattedrale, per loro e più malano la cattedrale, gli internati sono beni dell'umanità, quindi guardiamoci questi piatti eccezionali.